Dalla neve ai fondali di un lago, la campionessa olimpica Federica Brignone ha tolto la tuta da sci e indossato la muta per una giornata speciale organizzata da Gardaland Sea Life Aquarium per ripulire i fondali del lago di Garda in nome della responsabilità ambientale. La sciatrice si è immersa nelle acque del lago dove con l'aiuto di alcuni subacquei esperti ha realizzato una simbolica staffetta di pulizia raccogliendo vari oggetti lanciati in acqua e consegnandoli a un gruppo di bambini. I bambini sono i nostri migliori alleati, riescono a comprendere l'importanza del problema, possono convincere nonni e genitori a comportarsi in modo più rispettoso, ha commentato la sportiva. Le persone non si rendono conto che anche un loro gesto distratto peggiora una situazione già critica.